ciao mitici video di recensione di questo accessorio qua della tilta che è una ditta che si occupa di fare spesso degli accessori per agganciare stabilizzatori ad esempio sulla macchina o maniglie o altro in questo caso un bel accessorio per il dji osmo pocket 3 questo caso vedete che l'ho già accessoriato con due maniglie ma andiamolo a smontare allora prima di smontare faccio vedere perché due maniglie perché secondo me così tenuto con due maniglie riesco a stabilizzarlo meglio nelle fasi in cui si cammina sapete che c'è quell'effetto là di che si alza si abbassa che è difficile da togliere tenendo le mani vicino al corpo e tenuto saldo con due maniglie così rispetto che una sola che tiene l'osmo pocket dovrei aumentare di molto la stabilizzazione da quel punto di vista e anche distribuire meglio la fatica dice vabbè ma è leggero ma che fatica è sì però però migliorano le prestazioni allora l'ho accessoriato con due maniglie della small ring che utilizzo anche per altre cose però in questo caso small ring eccola qua vediamo che la prima maniglia è intelligente adesso che l'ho tolta vi faccio vedere perché già c'è un posto per tenere il cacciavite questo avrei potuto usarlo e un posto anche già programmato per tenere la vite che se no si perde che è questo perché vi faccio vedere questo perché ho una critica da fare a tilta perché in questo accessorio che ha questo è questo pezzo di metallo qua ok non ha non ha predisposto un punto per poter mettere il cacciavitino che dà in dotazione sì perché ha dato questo cacciavitino in dotazione ma non c'è un punto fisico per poterlo riporre e non perdere quindi quindi questo oggetto perde per così poco perde i 10 il voto 10 quindi il voto è 9,5 andiamo a vedere qua ancora questa vite qua della small ring ok questo è un'altra maniglia che uso anche per altre cose che fortunatamente l'hanno dotata di un vite che si può stringere a morte con il cricchetto ok e questo fa sì che anche se qui non mi combaciano esattamente i buchi non è esattamente ne basta una per tenerla ben fissa piano piano stiamo arrivando alla recensione del nostro tilta che quello che ci interessa premo il pulsante vediamo che facilmente riesco a scollegare ea collegare senza bisogno di smontare tutto il la batteria supplementare sì perché praticamente questo tutto il supporto è attaccato molto stabile su una vite da un quarto di pollice che appunto si svita con un qualsiasi cacciavite volendo anche il suo dato in dotazione cosa vuol dire vuol dire che noi utilizziamo o la batteria del creator combo che si trova all'interno del sacchettino per chi c'è questa cosa del credo il combo o semplicemente alla ecco o alla batteria perché c'è la vita da un quarto o questo che invece ce l'hanno tutti quanti quindi o uno o l'altro hanno l'attacca a vite in entrambi i casi entra in modo molto molto preciso quindi non ci sono giochi soprattutto una volta setta la vite questa è la batteria ok e questo invece il solo accessorio per aumentare il grip l'impugnatura in entrambi i casi dicevo comunichiamo bene agevolmente con l'usb che ci troviamo sul retro quindi in questo caso sul retro e ci comunichiamo bene mettiamo questa l'usb capita qui più avanti e ci comunichiamo bene se provassimo a mettere l'osmo pocket dentro direttamente no non è fatto per entrare anche perché l'osmo pocket non ha la vite da un quarto di pollice sotto e quindi non è questo il caso sotto abbiamo questi due buchi che non riesco a capire cosa sono forse in uno di questi casi si potrebbe usare per far passare una cinghiettina tipo braccialetto poi abbiamo un unico blocco di alluminio quindi molto ben ingegnerizzato e qui abbiamo dei binari nato si chiamano binari nato perché qua sopra si possono mettere dei morsetti che si usano si chiamano binari nato perché li usano sui fucili della nato e quindi è lo standard nato sopra il quale questi binari che sono sui mitra sui fucili ci possiamo mettere che sono un treppiedi per sparare in modo più stabile qui vi faccio vedere un binario nato quando viene venduto separatamente che con due viti lo attacchi e hai il binario nato sul quale ti ci puoi attaccare attaccare con qualsiasi cosa ti faccio vedere in questo caso un magic arm che sopra ha un attacco a vite da un quarto e sotto e invece ha un attacco con il binario nato e questi attacchi con il binario nato con quella levetta che hanno si stringono molto forte e molto saldi e molto velocemente o ci possiamo mettere un binocolo per mirare meglio una luce una gopro una baionetta insomma qualche altro accessorio si attacca facilmente sul binario che ha questa dimensione esatta e siccome è molto comodo è stato utilizzato anche nell'ambito fotografico quindi su questo binario ad esempio ci fosse una maniglia supplementare che invece delle viti aveva il binario nato ci sono dei morsetti che lo stringono esattamente sul binario nato un'altra cosa interessante nell'ambito della fotografia professionale è che ci sono questi due buchettini laterali che non so come si chiamano però questi due buchetti laterali a fianco alla vita da un quarto di pollice perché vedete questo è un quarto un quarto un quarto di pollice ma qui ci sono questi due buchetti che ecco qui vediamo in questo caso se io vado ad abitare una vita da un quarto di pollice quindi magari ci attascassi un magic arm forzando potrei muoverlo invece se io ruoto e i due buchetti entrano dentro e di questi pernetti entrano in corrispondenza dei buchettini noi andiamo a bloccare eccola qua entrata in maniera tale che non c'è verso di svitarlo devi per forza agire proprio sulla vite questo qua adesso l'ho recensito già è un attacco rapido per poter poi inserire un magic arm stessa cosa da quest'altra parte tramite quell'attacco tramite altri attacchi possiamo andare su un morsetto su un'altra vita da un quarto così è attaccato in modo molto molto più stabile rispetto alla sola vita da un quarto e quindi questo attacco diciamo professionale che soprattutto immaginiamo di avere il nostro osmo pocket su una barca su una macchina su una moto slitta su una moto da sci e quindi è molto importante che quando ci si attacca ci si attacca in modo molto solido e quindi questo potremmo dire che è un accessorio che va sul professionale anche perché il prezzo andiamo a vedere quanto l'ho pagato non è costato poco 52 euro è vero che c'era un coupon del 10 per cento quindi magari l'ho pagato 55 però si tratta comunque di un sacco di soldi per un accessorio ha senso una cosa del genere se è noi andiamo ad attaccare il nostro osmo pocket in situazioni in cui è molto importante che sia ben saldo ben attaccato ripeto un'automobile una moto un qualsiasi accessorio che va in movimento un aereo una moto slitta una moto d'acqua e quindi una volta che abbiamo messo le nostre ventose vogliamo essere certo che è tutto un pezzo facile veloce robusto sicuramente risponde a queste caratteristiche dove si trovava bene si trovava qua dentro vediamo la scatolina una scatolina semplice in cartone vabbè giustamente c'era la plastica ma niente di che non è una scatola che va conservata immediatamente noi l'apriamo la guardiamo la buttiamo ok mentre il nostro accessorio sicuramente è è quello che cercavano chi chi vuol far sostituire delle riprese magari in auto in action sostituire le riprese fatte da una mirrorless perché non è molto distante sono riprese ben fatte si possono sicuramente mischiare anche a riprese di macchine fotografiche di livello più alto perché non è per niente male l'osmo pocket 3 bene mi dispiace che è evidente che questa cosa qua deve essere trasportata a parte perché non entra poi all'interno ecco quindi noi quando la andiamo a riporre nel comodissimo nel comodissimo astuccio sicuramente questa qua va trasportata separatamente bene ragazzi la recensione è fatta ci vediamo a vediamo un po di fotografie vediamo vediamo le fotografie allora qui ci fanno vedere i vari attacchi qui ci fanno vedere come metterlo dentro a vedere uno dei vari utilizzi è metterlo a fianco alla macchina fotografica in maniera tale in maniera tale di avere magari noi abbiamo uno zoom abbiamo una visione alternativa e magari ci anche ci auto riprendiamo mentre facciamo gli scatti potrebbe sicuramente essere un utilizzo possibile vediamo il video avete visto per un attimo la slitta che vi dicevo che viene utilizzata con il nome nato anche in questo caso di nuovo a fianco alla macchina fotografica mettono l'osmo pocket in bici e la ditta deve essere asiatica perché il filmato è un filmato con cinese bene ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao mitici ciao